Bella vaga e bentornati con il suo canale di Pompelmo Wow Vi stavo aspettando perché oggi c'è un altro video Dalla mia live Molto emozionai Wow Bene sì, nella partita di oggi Il mio best player IGL Con 30 fps da giudice E lo incinto In una impresa storica Uuuuh E vi direte che cavolo sta sentendo Come io stai torpando Uuuuh Nessuno di euro nero Nero di 30 fps Punto anche disc 5 Uuuuh E con 5 fps Ma grazie a tutti Grazie a tutti Se chi ha legato questo game A voi questo video Stabiliate Uuuuh Cosa dite? Non lo guardiamo? Sì che lo guardiamo E approfiamo Uuuuh Per arrivarci Ma nettamente di più Spendete anche meno I primi italiani sono Degli 11M Lu JNR Kloak C'è una che si chiama Katarma Eh ci sono Che si chiama Kasma E' famosissimo E' un pro player Che ha fatto anche FNCS E l'ha vinte Ha vinto un sacco di soldi Però si è rubato il nome da me Questa cosa non va bene Beh che belle partita E l'eo di ieri E' la trio Glocky Decipto Sì bene o male Raspè cazzo Si faceva Ma guarda che per qualificare Stati mac Devi fare top 100 Alla cash Cioè è logico Che sia la stessa persona Ah se no non lo facevi Dreamhack E infatti vedo la stessa gente Infatti questo si chiama Coppa Cash Extra Perché facciamo giocare Solo a quelli famosi Così diventano ancora più ricchi E' troppo lungo da scrivere Eh ma c'è una mica senza C'è troppo poco cash In palio su Fortnite Cioè fanno una competizione europea Dove giocano 200.000 persone A mettere in palio E come si fa E' la maratona di New York E' quello che vince Gli dai 1000 euro Non te la fa nessuno C'è troppo pochi Una volta a mese Mettevano i tornelli 500.000 a dollari E' 100.000 al mese E ogni giorno Ci stava uno del 1000 dollar Ah così Non ha Non ha Non ha senso Non è Non è neanche sostenibile Economicamente Infatti mettendo prima Tutti il price bull Tutti le le season vecchie Tutti si sono impegnati Per diventare forti Adesso hanno tolto tutto Però quelli forti Comunque lo giocano Perché Ci provano lo stesso Sì ma non c'è Economicamente te l'ho detto Molto più Remunerante Tipo se uno fa il calciatore Arriva in una serie B Guadagni molto di più Ma E poi te l'ho detto Se fai Come se fai La maratona di New York E metti in palio 1000 euro al primo No Non vedete top 7 Ma perché non entri mai Nelle tende te Nelle tende Eh si può entrare Non saprei che si può entrare Nelle tende Guardalo Così No Saperi C'è una calma Arrivare in top 5 No devo diventare top 3 Per fare i punti Saperà top 3 Per fare 0 punti Top 2 E fa 10 punti Eh la madonna Sono entrati dei ladri In casa di XQC Adesso devi cambiare casa XQC Lo streamer Quello lì E te non muoverti Infatti secondo me Dovevi fare delle scale E ti ci mettevi sotto Così è troppo È troppo Lo scherco Di la situazione Avrò Che la semplicità Mi paga Eh Sta Ma serve Serve tutta la tua esperienza Questo rumore Boh Si è sentito un rumore Eh Purtroppo qua Modino 100% Perché voi non vedete Cosa ci è successo Qua da Eh Sper Spera Spera Perché sono SST No no Sentiamo Sentiamo Sta per partire 3 2 1 Disco La giocata Disco La giocata Sì Arriva Eh Adesso che tira via 8 Figa attenzione Basta che sennò ti sentono Top 5 Che uno C'è un ordinato C'è un ordinato Non ti ha visto Non ti ha visto Non ti ha visto È proprio Esposto Unbox Alla tua sinistra Espremi il tuo potenziale Massimo Adesso Questo monolocale Porta la fortuna Qui siete 5 T 8 Oh Che giocate Quello sotto Magari Mi sa che L'ho Mando anche Sdampate Che puoi tirare Quello 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 E tuo Quello Lo sto curando Lo sto curando Lo sto curando No Non lo curano Attenzione Anche la Kill Tattica Quello Dobbiamo dire Di questo Player Questo Questo E bianco Questo Che scende Bianco 2 Kill Attenzione E se La gioca E la Vince Così E la Vince E la Vince Di Tecnica Di Tattica Di Testa E Questo DGL Maximo Experience Go DPL Best in June Player Segnatelo a T Grazie a tutti.